Io ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale proprio per evidenziare al neossessore questa difficoltà. Già lo scorso anno i ragazzi che avevano fatto un abbonamento annuale non erano riusciti a poter utilizzare completamente il loro abbonamento e quindi avevano pagato delle cifre per non poter utilizzare l'autus. Ricordo che dal mese di marzo le scuole sono state chiuse, quindi per il mese di marzo, aprile e maggio e anche una parte di giugno i ragazzi non hanno utilizzato l'abbonamento. Dopodiché lo scorso anno si è deciso di fare dei voucher, cioè consentire alle persone, alle famiglie di poter fare il nuovo abbonamento per l'anno 2020-2021 e di poter scalare quella cifra che non era stata utilizzata. Adesso nuovamente le famiglie hanno rifatto un ulteriore abbonamento per un altro anno e si ritrovano comunque la scuola chiusa. Devo dire che si è parlato molto della scuola dicendo che sarebbe rimasta aperta e poi alla fine è stata la prima a chiudere. A questo punto le famiglie per il secondo anno consecutivo si ritrovano ad aver pagato un servizio di cui non stanno beneficiando. La mia proposta è stata quella di chiedere all'assessore di non prevedere più dei voucher, ma di prevedere sicuramente dei rimborsi direttamente, cioè prevedere la possibilità di ridare i soldi. A livello regionale stiamo facendo la verifica, cioè stiamo cercando di capire quanto costa tutta questa cosa, ma io mi ritengo opportuno che almeno i ragazzi di quinta, cioè le famiglie che hanno un ragazzo in quinta, sia necessario riconoscere quello che hanno pagato, quindi rimborsare completamente quella che è la cifra che hanno speso. In collegamento al discorso famiglie, ragazzi, quindi anche istruzione e scuola, anche la possibilità di richiedere di fare un voucher per quanto riguarda l'acquisto di apparecchi tecnologici? Sì, proprio in questi giorni è uscito il bando del Ministero, devo dire molto importante, anche in un periodo, devo dire, azzeccato, dove tante famiglie, tante persone sono costrette a lavorare a casa con lo smart working, o comunque i ragazzi devono rimanere a casa in collegamento e collegarsi con la scuola, ed è appunto uscito un bando che consente di finanziare sia l'abbonamento per la banda ultralarga, oppure per l'acquisto di un pc o di un tablet. Ovviamente poter accedere a questo tipo di opportunità, ci sono tutta una serie di domande da fare, e in base al reddito, ma invito anche i cittadini a verificare perché i redditi sono abbastanza alti e quindi saranno in tanti le famiglie che possono utilizzare questi bonus.